E il contatto c'è? Sì, il contatto c'è. Ma è Arrechini che va super resistente e non il contrario. Però direi che il rigore è confermato. Perché Corazza è pronto a calciare. Colombo tiene tutti fuori dall'area di rigore. Allora Odero vuole farsi perdonare a un'occasione. Rigore confermato? Va parlando con la Salavar. Rigore confermato. Corazza parte destro che spiazza Odero l'Alessandria che con i calci di rigore è tornata in Serie B. Con un calcio di rigore passa in vantaggio Amarassi, Sampuno, Alessandria 2. Tutto da rifare per cogliere le compagni. Però l'Alessandria non ha mai mollato. Ha iniziato a giocare in questo modo con la palla sul... Io più lo vedo e più mi vengono dubbi. Il rigore ha calciato benissimo. Ha guardato fino all'ultimo. Perfetto, l'ha fatto andare, l'ha fatto scegliere un lato e ha calciato dall'altro. Bravissimo Corazza, bravissimo Arrighini anche a procurarselo. Però se Berezischi non si può...